Da circa tre mesi alla guida di Palazzo San Giorgio, Maria Luisa Forte, prima sindaca eletta a Campobasso, sta riscuotendo per ora l'apprezzamento dei cittadini, che hanno gradito anche la sua decisione di devolvere una quota dell'indennità mensile alle politiche sociali del Comune. Tuttavia per i campobassani ci sono delle priorità che l'amministrazione forte deve affrontare con urgenza, aumentare i parcheggi al centro della città, modificare la viabilità per agevolare il traffico e migliorare le strade, asfaltandole, sono tra queste. Il problema più grosso della città di Campobasso è il traffico, i parcheggi traffico perché c'è la cattiva abitudine di fare anche 100 metri con le macchine, quindi per me penso che trovare delle soluzioni, ma più che l'amministrazione, proprio la cultura cittadina, che potrebbe essere molto più generica, parlano di green e cose, però escono tutte con le macchine. Fare dei parcheggi nuovi soprattutto per il centro perché sono fondamentali e di pensare bene sulla ZTL perché tanti negozi, tanti venditori stanno avendo delle difficoltà. Molto bella calma e c'è tanti concerti qui, sì. In questo momento penso che forse le strade dovrebbero essere asfaltate in orari un po' più calmi, questo sì, però al momento è presto, ancora dobbiamo verificare, però va bene così.